Ciao a tutti ragazzi, qui è GSNK e siamo in compagnia di quattro ragazzi del mio team che... allora sono... aspetta... Kiri, Bronx e il pezzo di culo che mo ha cambiato nome che era Stormbrine, ora è Vanon o Enim, vaffanculo a te mamma... o come? Comunque... ci sta anche Belzebub qua che è sempre un iscritto e poi di là ci sono, fammi vedere i nomi Narzi, VBest, Gilbibro, Aegis e EvvivaLuke4216, o anche Sudici, come? Eh? Eh? No, non ho capito io Ah, neanche io, non ho amato Eh, infatti io Eh, niente, Aram con gli iscritti, easy, easy, ggwp, non mi ne ha appropriato l'hook Oh shit! L'ho fatto a prendermi Vaffanculo Ehm... che dire? Niente Ma avete una tecnica, visto che sono tutti tank, secondo voi, come potremmo fare per ucciderli? No Bene Quindi noi attendiamo Attack speed Ah, noi abbiamo a rise attack speed Oh, ne ho preso 4 Ovviamente E non so Bravo! The best! Oh! Oh! T'ho pure salvato Bam! Dai, se continuiamo così, forse, forse ci abbiamo una possibilità, eh Fai un altro po' dei bait così, zio Portacci tu Oh, che shit Tipo così Oh, non ho preso nessuno Tof, chiede sta roba intorno Ma che poi che fa? Danno sta, sta roba Le... è la doppia W de... De Mortal Geyser Chi gli sta vicino Cioè, se tipo la fai su un alleato Eh, chi gli sta vicino subisce danno Ok, ok E gli devi portarmi pure Ti prende stack di shield pure Oh, che shit, insomma Farmate, minion Madonna Madonna, lo scudo OP Perchè si stesse chiedendo Perchè ho le cuffie così E perchè tra un po' devo uscire E non va Perchè ha saltato? E non voglio distruggermi i capelli con le cuffie Quindi non ci fate caso Alle mie cuffie Dai però, buttate, zio Fai... Fai lo strambo Eh, senza... Che cazzo ti frega del flash? Ci mori e noi ne uccidiamo quattro No? Chi è che devi andare dentro? Eh, Ryze Ryze perchè... No, lo stavo per andare io Stronissimo Come? Madonna, queste mitragliette Comunque loro c'hanno tutti i personaggi che saltano a parte Darius C'hanno tutti i... Darius salta Non diciamo cazzate Vabbè, salta però sul posto Non è che... Gli altri saltano verso qualcosa Hanno il salto till Mi sa che mo' ce muore Zio Ma vaffanculo ogni volta Sta torre de merda Ma che cazzo ti ha fatto suoi? Boh Ma che dite? Secondo voi con la ultimate Chi devo prendere? Meglio Mastery o meglio Darius? O Jax? Non è meglio Darius Darius, dici? Sì, perchè fa danno in base alla vita Ok Oh shit Oh shit Oh, fate i calmi Vabbè, va bene questo Chi cazzo... No, perchè Brom? De tutti... No Sì No Che cazzo... Ah, no, è Jax No, è Brom Che palle De tutti quelli che potevo via Brom Voglio a romper il cazzo A dive No, non attacca la passiva però Che palle Sai che figata si attaccava la passiva Ero più shit No, 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 no Che bravo Oh Armare Vado a prendere un po' di pack Mo' torno Oh, non uccidete nessuno Che sta a partecipare a tutte le kill Ho fatto due assist No, tre assist e due kill Non mi fate rimanere indietro Spavaldo proprio Balli là Dai, vai Beta tutti No, devo bitare Master Yi Se no non ha senso Che idiota Oh, no No Ops E' la torna che la prende con me Oh, come no Ah Oh, scusa Mi sembrava la voce un po' femminile Oh Ah, sì, ho fatto l'assist Stavo già rosigliando La miseria non va mai solo Dai, raga Fatemi più a quel Darius Preso Mori Oh, no, 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 no Oh, ciao, va Eh, andiamo in faccia a qualcun altro Stavo vedendo mio padre che cosa mi aveva portato Non ho capito cosa mi importava Ah, è vero Vabbè, comunque, ho visto Ho preso Darius Non stavo forte Beh, col chiappi Ma no, lì E qua si mette la cosa Facciamo sul tappetino Sono cattivo Allora Faccio questo Faccio Questo Faccio Sto Sto mischiando un po' di item A random Faccio questo E faccio anche questo Ok, arrivo No, no, avete fatto delle kill No, ancora no No, no, morite tutti Non fate kill Morite tutti Cazzo No, 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 no No, 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 no No, 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 sei un coglione! No! No, guarda come si salva quell'altro. No, ma è l'entira su su Jax. Oh, quasi, quasi. Buono. Oh, no! Non ci sono io nell'assist. Report. Ok. E tutti quanti mi raccomando, eh? Report di gruppo, please, plux, plux. Uccidiamo sto poro. Donna sto delfino! Finca se lo è nel culo! Come? Oh, ehm... Buon caffè. No, Jax, vai via. Senti, Paddy. Eh! Posso arrivare? Sto arrivare? Mio. Comunque, secondo me, mi sa che è meglio coso. Mastery da prendere. Perché c'è un attack speed, in genere, da... Da move. Oh, Jax. Prendiamo Jax. Sta simpatico. Ma non è morto, Jax. Ma cia puttana. Ma... Dai, ma lo stai affatto a speed, ma te pare... Ah, no, lo stai affatto comunque a speed. Ma guarda quello che si è salvato. Ma va a fanculo, va. Oh, 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 che fai, Brom? Volta, c'è... Sei morto, chi è? Oh, oh, guardate il poro, guardate il poro! Guardate che bello! Ma quale? Questo, questo, che sto inseguì. Oh, ma sono i nemici! Oh, cazzo! Avevo zoomato tutto! Non vedevo niente. Vai, vai in mezzo. Go. No, sto scherzando. Cazzo, quello ti ingaggia. Oh! Oh, oh, raga, raga! Vaffanculo, vedete sta palata in faccia. Vai, ragazzi. Fanculo! Madonna, madonna! Oh, pg! Ragazzi, venite qua, venite qua, venite qua. Prendiamo Mastery, prendiamo Mastery. Prendiamo Mastery, prendiamo Mastery. Oh, l'ho preso, l'ho preso! Non vi inciderei! No! Ah! Guarda Mastery! Oh, uccidiamo prima la torre, però, raga. Se no, questi riusciano tutti e ci ammazzo. Ok. Ora uccidiamo lì tutti. No! Ma veramente? Ma veramente te salvi? Ah! Dai, finite che devo andare. Veramente? Sì. Vabbè, aspetta un attimino. Guarda come mi vogliono, guarda come mi vogliono. E non mi avranno mai perché vado a prendere la torre. Non torno, torno, ragazzo! No, non torno più! Muori! E me sa che devi aspettare un altro pochino, va bene? Giusto due secondini. Quit! Quit! Oh, quit! Sneaky, sneaky! Oh, se entra Jax, prendo Jax e andiamo avanti. Ah no, 27 secondi di cooldown. Oh, ma che fa? Mi da in culi? No! Xpeg in due, eh? Pronto? Shit. Attacca! 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 Attacca, corri! Mi sa che siete morti tutti. No, se ci credevate erano morti tutti. Vabbè, tenta kill the jinx questa. No, non è tenta kill the jinx questa. Forse sì? Double kill gliela dà? No, ha preso... Vabbè, quadra chi? Ha fatto una quadra. Buono. GG, ok. Allora, finisco il caffè mentre lei finisce. Comunque ragazzi, sperando che questo video vi sia piaciuto, vi rimando al prossimo video. Ma magari il lunedì faccio sempre l'aram con gli iscritti, proprio video fisso settimanale quasi quasi. Un po' ci penso. Comunque ragazzi, sperando che questo video vi sia piaciuto, vi rimando al prossimo video sempre sul mio canale. Salutate tutti. Oh, ciao! Donna che grinta ragazzi, fate un urlo. Forza, voglio un urlo. No, questo non è un urlo. Questo non è un cazzo di urlo. Vabbè, rifarlo. Perfetto, con questo vi salutiamo e al prossimo... Aspetta, che hai scritto pure tu? Ah, non può urlare, vabbè. E al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!